Italia Macedonia del Nord 5 a 2 ragazzi, è finalmente un'Italia che forse vuole raggiungere questo benedetto europeo e sta facendo qualcosa di concreto Sono sicuramente felice, anche se devo dire ragazzi, arrivare al 3 a 2 con quei due gol di Ristoski, se non sbaglio, veramente rischioso Veramente rischioso, veramente rischioso, ma ad ogni modo diciamo che la partita è definitivamente chiusa per me il quarto gol di Jack Raspadori Non perché sono napoletano, quindi ok, parlo solo dei miei giocatori, però oggi avevo un occhio di riguardo perché ormai ragazzi, le nazionali le guardo solamente per vedere se i giocatori del Napoli si infortunano O se qualche squadra contro cui gioca il Napoli ha qualche perdita in nazionale magari, no? Detto ciò, grande partita, grande partita a livello anche di carattere, Spallettone sta iniziando a dare anche la cazzimma, se vogliamo, anche la grinta a questa nazionale E ragazzi, Raspadori sempre più punta vera, sempre più punta vera Spalletti sta dando lezioni a molti allenatori, anche delle squadre di club, su come si usano certi giocatori Per esempio su come si usa il Zagnolo, su come si valorizzi il Darmian, che oggi fa anche gol Ma per me è veramente grande, grande, sta dando lezioni diciamo Sta nazionale ragazzi che purtroppo non è completa perché, cioè nel senso non è costante perché in partita prima abbiamo fatto schifo Oggi ne abbiamo fatti cinque, però ragazzi raramente mi ricordo una nazionale italiana che va a fare cinque gol Nelle qualificazioni europee, cioè comunque sono tanti, comunque è una goleada Voglio fare una piccola discussione poi sul Telecronisti Rai, ma proprio una parentesi Poca puttana, una partita con sette gol L'hanno fatta sembrare la partita più noiosa del mondo, cioè letteralmente questi hanno fatto cinque gol Uno più bello dell'altro l'Italia, l'Italia La Maginano del Nord ne ha fatti due, comunque molto, molto validi Gli hanno fatto sembrare una partita a basket Il gol di El Sharawi Sì, urrà Porca troia, esulta un po', figlio mio, chi è? Rimedio che faceva la telecronica Mamma mia, sembrava che stessero giocando scapoli contro ammogliati La partita era alta intensità, ma i telecronisti, mamma mia ragazzi I telecronisti veramente scandalosi Detto ciò, Grandi Italia, io ho poco da dire, verrà un video breve Mi sono anche divertito a vedere le trame di gioco, mi sono divertito a vedere l'uscita dal pressing Si rischia, si rischia Questo ai tifosi dell'Inter, della Juve, sembrerà una cosa nuova No, in possesso, palla, rischiamo In possesso, palla, sì E così, funziona così Se vuoi uscire a palla al piede dal pressing Deve rischiare E si rischia, si rischia di prendere anche questi gol che abbiamo preso oggi con la Macedonia E così Poi i Macedoni e il Nord che a un certo punto hanno iniziato a fare i fenomeni Me ne posso aspettare da un Elmas, da un Bardi, da un qualcuno del genere Ma il ragazzo che oggi ha fatto due gol, veramente sorprendente Detto ciò, noi glieli abbiamo fatti cinque Quindi, per me, oggi, veramente, l'Italia ha poco da recriminarsi La lì è tutta, avanti così Secondo me, ragazzi, qualificarsi all'europeo deve essere veramente il minimo Cioè, non possiamo sudarci anche una qualificazione all'europeo Noi ci vediamo alla prossima Comunque, iscrivetevi al commentato, lasciatevi anche E dimmi la vostra Ciao Ciao